era meglio se facevi il sasso e era meglio se facevi il sasso subito e basta e là la freccia quindi andiamo su diritti e basta ascolta andiamo anche io l'ho fatto e basta io li ho fatto tutte e due vaffan cuore ho detto ma che va da resto lì la freccia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.